è un confronto serrato importante dialettico franco e costruttivo il comune di napoli ha fatto una proposta e fa delle proposte che sono le migliori possibili nell'interesse generale che quando le racconto in altre parti del nostro paese è come se le facesse una città come dire che vive in un altro pianeta perché le altre città ben più finanziate di noi hanno messo sul mercato talvolta non pagano gli stipendi e non esiste più il servizio pubblico nella nostra proposta c'è anm rafforzata tutta pubblica su scala metropolitana non c'è un licenziamento e si creano le condizioni immediatamente per un miglioramento progressivo dei servizi poi si può discutere del dettaglio del punto e virgola di tante altre cose compreso il mantenimento del reddito e compreso le istanze anche premiali dei lavoratori mi fermerei qua io sono convinto che raggiungeremo il risultato perché chi non può essere d'accordo su questa linea non penso solo ai sindacati dico in generale e per fare questo tipo di confronto c'è bisogno anche della regione dello stato il comune di napoli sta facendo la sua parte fin anche qualcuno ritiene non so se a fondamento ha torto fin troppo perché andiamo a ripatrimonializzare l'azienda nei prossimi giorni ma noi ripatrimonializziamo l'azienda se c'è la condivisione di un progetto strategico è un progetto che immediatamente da domani vede il rilancio dell'azienda è che noi possiamo mettere soldi a perdere finora facciamo la nostra parte abbiamo chiesto un incontro al presidente della de luca che si è detto disponibile tendiamo la data non credo sia complicato trovare una data ma questo non dipende da noi che la nostra agenda anche se è molto fitta se si tratta di trasporto pubblico interessi dei cittadini e dei lavoratori liberiamo subito l'agenda sono disponibili a incontrare de luca anche domani prima di partire per lanci questa è la proposta che ho fatto al presidente lui ha detto che domani ci saremmo incontrati aspettiamo l'ufficialità di questa di questa data e sono molto fiducioso dell'incontro di stasera io penso che i lavoratori lavoratrici anm hanno senso di responsabilità comprendono il momento difficile il sindaco non li abbandonerà mai insieme alla sua giunta la sua maggioranza per gli obiettivi tattici strategici e anche il momento però dell'assunzione delle responsabilità noi saremo chiarissimi con loro con la città e con tutti a posto con la nostra coscienza e in grado come dire di difendere le nostre scelte in ogni campo d'azione in ogni luogo e in ogni contesto quindi stanotte ospitabilmente speriamo di non fare un'altra nottata speriamo di raggiungere un obiettivo importante o comunque fare altri passi in avanti per raggiungere al più presto pensando che il tempo sta per finire questa è una clessidra molto piccola se non si chiude rapidamente si rischia veramente che tutto quello che ci siamo detti non si potrà raggiungere